E' il momento di Maurizio Pesenti, direttore della rete di IAD, ciao Maurizio, ciao ciao. Allora, IAD, un nuovo modello di agenzie immobiliare, di intermediazione immobiliare, spiegaci un attimo, per chi non conosce ancora la vostra realtà, come funziona IAD? Ma guarda, nuovo relativamente perché IAD nasce nel 2008 in Francia ed è un modello di business che va a rivoluzionare quello che è il mercato dell'intermediazione immobiliare perché si stacca completamente dal mondo del franchise, della classica agenzia e nasce per avere tre pilastri fondamentali. Abbiamo al centro, c'è la figura dell'agente immobiliare che viene accompagnato nel suo lavoro dal digital. Prova a pensare che oggi tutti parlano di digital, IAD nasce nel 2008 con il digital, quindi c'è stata veramente una visione del mondo che stiamo vivendo in questo periodo dopo il lockdown che risale però prima del 2010, quindi la nascita del 2008 e la grande innovazione è l'inserimento dell'MLM in un settore dell'intermediazione immobiliare, probabilmente come pionieri. Ecco, MLM, spieghiamo bene questo concetto a chi ci sta guardando da casa, come è stato introdotto all'interno di IAD? Io partirei dalla descrizione della classica agenzia immobiliare, per farti capire la differenza. Siamo abituati a, eravamo abituati a modelli di agenzia immobiliare dove c'era il titolare, prima la sua agenzia fisica, che era un negozio, che era un ufficio, poi aveva la segretaria, poi aveva gli agenti senior, c'era una figura del broker con poi tutte le altre figure all'interno dell'agenzia e comunque viveva questo mondo all'interno della sua agenzia, era come un'isola. IAD invece nasce come una grande unica agenzia internazionale e permette attraverso il modello del network marketing di crearti a costo zero, ma solamente con l'impegno del tuo tempo, un tuo patrimonio che è la rete. La rete, adesso non sto a entrare nei dettagli, 5 livelli, 7 livelli, nel nostro caso 5 livelli, ma ti permette solamente col fatto di lavorare insieme a un team di amici, colleghi, persone che negli anni ti stimano e quindi vogliono venire a lavorare con te, ti permettono di avere quelle che noi chiamiamo ricorrenze, cioè una sorta di benefit economico che non dipendono più dal tuo lavoro. Quindi l'agente immobiliare che fino a poco tempo fa poteva contare esclusivamente sul fatturato che produceva, cioè io esco la mattina, trovo i miei incarichi, faccio le mie compravendite, faccio il mio fatturato, se fatturo guadagno, se non fatturo dovrò fatturare poi il mese successivo. Con questo modello di business non hai più l'ansia di dovere tutti i mesi fatturare continuamente, ma hai un team di persone che ti permettono la tua rete, che ti permette di avere dei ricavi dal loro lavoro. Quindi una sorta di seconda linea di business e di entrate per l'agente immobiliare. Assolutamente sì, non parliamo più della tua produzione personale, noi addirittura abbiamo tre fonti di fatturato. La prima è la tua produzione personale, la seconda è la collaborazione perché essendo un'agenzia internazionale abbiamo fatto delle compravendite, Milano, Firenze, Parigi, coinvolti diversi colleghi in diverse modalità, chi dal lato venditore, chi dal lato acquirente e quindi anche lì c'è una sorta di guadagno dal punto di vista della segnalazione e poi queste entrate che noi chiamiamo ricorrenti date dal network marketing che ti permettono veramente di avere un tuo patrimonio, una rete che è tua, non è di IAD. Questo io ci tengo a dirlo perché è una delle cose più importanti, costruire questa rete che è una rete propria. Ecco, rete è un termine molto ricorrente quando si parla del vostro sistema di intermediazione immobiliare. Quali sono le difficoltà che avete riscontrato in Italia nello sviluppare questo modello di birra? Ti anticipo ridendo la domanda perché purtroppo l'Italia è famosa per la sua burocrazia e quindi questo lo puoi bene immaginare a differenza di altri paesi europei e nonostante la comunità europea abbia emanato disposizioni precise per l'attività dell'intermediazione immobiliare anche per l'Italia, mai in Italia si è fatto un regolamento dell'attuazione e quindi purtroppo ci scontriamo ancora con norme tra virgolette un po' datate che non sono più al passo con il tempo e quindi con la digitalizzazione dei processi e con un'evoluzione di un mercato che noi ormai lo guardiamo europeo, addirittura mondiale quindi non possiamo più ragionare da italiani nei nostri piccoli comuni ma dobbiamo se vogliamo crescere e cambiare il passo vedere un mercato europeo come minimo se non addirittura globale Quali sono gli strumenti che IAD offre e mette a disposizione dell'agente immobiliare per l'operatività quotidiana? Tieni presente che noi diciamo il nostro ufficio è il nostro pc giusto per darti un'idea tu la mattina quando ho il tuo pc portatile all'interno della nostra piattaforma hai tutto e quando ti dico tutto significa hai gli strumenti per trovare un incarico quindi per acquisire e ho ben due strumenti adesso ti spiego anche le modalità operative del nostro agente quindi alla mattina io mi sveglio posso interrogare nel nostro play IAD quelli che sono gli strumenti partire da Cityscan, Casa Share che è un strumento comunque famoso e conosciuto sul mercato immobiliare e lì vado a cercare tutte le persone che vendono so tutto quello che c'è in vendita nel mio territorio e quindi riesco a farmi anche un'idea di quello che è il panorama immobiliare nella zona dove opero dopodiché attraverso sempre questa piattaforma posso andare a fare quelle che sono a casa del cliente le valutazioni utilizzando uno strumento digitale nostro che è un libretto di presentazione di servizi che noi facciamo vedere sfogliandolo proprio digitalmente sul pc che illustra a chi vuole vendere casa tutto quello che IAD farà per vendere casa sua e non è così scontato perché sai qualcuno porta la brochurina dice noi siamo brevi, siamo balli, siamo 10.000, siamo bravissimi noi nella realtà facciamo attraverso uno storytelling tutto un racconto di quelle che sono le azioni reali che faremo per mettere in vendita e tutti gli strumenti che utilizzeremo per vendere la casa del cliente dopodiché per la valutazione ci appoggiamo a un valutatore nostro nativo IAD e all'ultimo strumento molto conosciuto che è uno dei valutatori probabilmente più vicini al valore reale e commerciale di un immobile oggi in Italia quindi vedi il nostro agente può fare tutti questi processi poi arriva l'incarico e l'incarico lo puoi firmare digitalmente quindi può anche rinunciare a girare con i blocchi con la carta, con la carta copiativa mandati con la carta copiativa si gira col pc e attraverso il pc prendo l'incarico e ritiro la proposta oltre a questo cosa può fare il nostro agente? può seguire tutta la formazione IAD perché c'è un'università online e poi c'è un altro aspetto legato noi lo chiamiamo anche le business il nostro agente vede un'agenda di appuntamenti formativi che abbiamo settimanalmente questi appuntamenti con il lockdown necessariamente buona parte sono andati online ma anche per la diffusione che oramai IAD ha su tutto il territorio nazionale abbiamo due tipi di formazione una online che raggiunge tutti e una poi nei nostri uffici, poli di formazione sul territorio che sono le formazioni che a me piacciono di più perché c'è il contatto diretto con la gente quindi attraverso questa piattaforma il nostro agente può lavorare da casa avendo tutto quello che serve all'agente immobiliare quindi diciamo un modello di business molto orientato all'uso della tecnologia sì, il digitale deve assolutamente aiutare l'agente immobiliare non sostituirlo sentivo questa mattina i vari interventi ci sono stati in sinergie e tutti erano d'accordo dicendo sì, è importante il digitale tutti le parlano ma deve essere a servizio dell'agente immobiliare deve accelerare quei processi fastidiosi che hanno gli agenti immobiliari tutti i giorni la carta soprattutto tutti quei processi che fanno perdere del tempo e non sono produttivi se dovessimo fare un identikit dell'agente immobiliare tipo di IAD quali sono le caratteristiche che riuscite a identificare? noi puntiamo molto sull'aspetto imprenditoriale della persona e quindi anche chi non è agente immobiliare IAD è un percorso per poter diventare agente immobiliare quindi è benvenuto perché lo aiutiamo a cambiare vita magari entrare in un mondo che sicuramente lo affascina perché molti oggi parlano dell'immobiliare ma il nostro classico agente immobiliare è colui che riesce a fare questo cambio dalla modalità tradizionale di lavoro a una modalità più evoluta europea, internazionale, digitale ma vera facendo parte di non una piccola agenzia in franchising magari ma di una grande rete internazionale tenendo conto che noi in Italia facciamo tutto a livello centralizzato come sede a Milano quindi è un'unica grande agenzia che offre ai nostri agenti il back office che offre tutti i servizi che altrimenti dovresti andare a pagare attraverso delle persone che lavorano per te ad esempio quindi ogni agente IAD in realtà è uno sviluppatore di rete sì assolutamente ha la libertà non l'obbligo questo ci tengo a dirlo perché la parola libertà in IAD è fondamentale ha la libertà di poter costruire il proprio successo e dal punto di vista invece dell'acquisizione IAD quali sono i vantaggi che offrono agente immobiliare in fase di acquisizione di un immobile? ma guarda quello che ti dicevo prima quando ti ho narrato un po' la vita del nostro agente innanzitutto gli strumenti digitali che si sostituiscono all'andare a suonare i campanelli io torno sempre lì perché sono nato in quell'epoca dove era importante suonare i campanelli è ancora importante credo però è forse più importante oggi avere una tecnologia, un digitale che va a sopperire a quella parte un po' diciamo non brutta però fastidiosa di dover andare tutte le mattine a suonare le persone attraverso il digitale, attraverso questi due strumenti sappiamo chi sta vendendo casa in questo momento quindi possiamo andarlo a interrogare dicendoli che magari abbiamo già delle persone interessate piuttosto che andare a prendere un mandato questo è sicuro e poi anche noi come altri forniamo delle leads digitali di venditori ai nostri colleghi sul territorio adesso voi in Italia siete dal? dal 2018 dal 2018 la vostra roadmap cosa prevede per l'Italia come progetti? sicuramente di diventare uno dei player di riferimento nel settore dell'intermediazione immobiliare perché con l'avvento dei fondi di investimento soprattutto i sei partner nell'ultimo anno sicuramente l'obiettivo è quello di diventare uno dei maggiori player anche all'interno del nostro paese dell'Italia perché non è quello di andare a posizionarsi in tutte le nazioni ma quello di essere un leader di riferimento così come l'ha in Francia un dato che è comparso prima che ci ha presentato Gerardo nel suo report sulle reti parlava appunto di 51.000 circa 51.000 imprese di intermediazione di cui però solo circa 6-7.000 sono appartenenti a un marchio un franchising un brand non personale come leggi tu questo dato? Cioè l'italiano non vuole stare sotto un cappello che non sia il suo? Ma diciamo che è un mercato polverizzato è un mercato che a noi interessa molto perché tutti questi 45.000 colleghi che oggi hanno magari una loro realtà piccola, media, grande che sono che lavorano in maniera tradizionale oggi hanno l'opportunità di avere IAD che gli dà una nuova prospettiva di quello che è il mercato immobiliare prova ad immaginare in qualsiasi provincia italiana noi abbiamo tantissime agenzie immobiliari che sono costituite magari da titolare, da segretaria e forse un agente torniamo al discorso di prima se non fattura questo titolare se non fattura l'agente per loro non fattura nessuno si ferma a gioco quindi IAD è una sorta di previdenza sociale della gente immobiliare la chiamerei previdenza sociale anzi però una formula insomma anche di sicurezza diciamo che può rappresentare noi usiamo un termine che secondo me non è forte ma la verità è la tua libertà finanziaria perché al momento in cui tu raggiungi messilmente migliaia di euro dalla tua rete puoi sicuramente vivere un po' più sereno chiaro magari con un occhio diverso rispetto al fatturato e anche alla qualità della vita ma anche crescita dal punto di vista professionale perché il fatto che la tua rete la possa avere anche fuori dall'Italia perché le regole sono le stesse per IAD che tu sia in Italia in Spagna in Francia in Portogallo in Germania adesso prenderemo anche la Florida UK quindi in tutte queste nazioni tu hai le medesime possibilità e la tua squadra può avere all'interno della tua rete agenti di tutte queste nazioni quindi un utente IAD Italia può avere all'interno del suo team anche io conosco un collega in Spagna lo sponsorizzo viene all'interno del mio team lui lavora sempre in Spagna ma farà parte del mio team e quindi anche sul fatturato prodotto da questo collega anch'io avrò dei benefici un ritorno un ritorno chiaro e come vedi la collaborazione all'interno cioè l'idea proprio di sviluppare cioè ci sono ci sono agenti che si dedicano solo ed esclusivamente a sviluppare reti oltre a fare proprio guarda questo è un discorso che hai fatto bene a farmi questa domanda perché molti si fanno a prendertela paura devo cominciare a sviluppare non l'ho mai fatto non è vero ti spiego semplicemente come si fa uno sviluppo ti dico proprio con due parole molto semplici io sono un agente mobiliare lavoro da solo però conosco tanti colleghi con i quali magari abbiamo fatto delle collaborazioni abbiamo lavorato insieme ci rispettiamo più o meno lavoriamo alla stessa maniera posso contattarne uno e con lui dire senti perché non viene a lavorare con me gli spiego il modello IAD e lo faccio conoscere e da lui parte la costruzione anche da uno alla volta perché con un mio collega gli dice guarda il modello è uguale guadagniamo tutte la stessa cifra gli facciamo vedere gli spieghiamo bene cosa significa fare network marketing e tra un appuntamento di acquisizione un appuntamento di vendita una chiacchierata con un collega mi permette magari di associare qualcuno nella mia piccola rete così lo può fare lui così lo può fare qualsiasi collega senza dovere avere il chiodo fisso oddio da domani devo andare a cercare persone devo fare la rete assolutamente no e la cosa bella che c'è in IAD che c'è la libertà sia nei tempi io abbiamo avuto un collega che è entrato tra i primi in IAD e per molti mesi all'inizio diceva io faccio fatica era abituato lavorava in un franchising quando gli è scattato perché vedendo altri che facevano invece con facilità magari aveva una rete oggi ha otto persone nel suo team sono pochi sono tante sono comunque persone che lavorano e gli danno una rendita comunque di qualche migliaio di euro quindi partendo da una persona si costruisce io dico sempre io scelgo le persone con cui mi piace lavorare con cui voglio lavorare e soprattutto ne scelgo poche poi loro a loro volta le sceglieranno e così si fanno i vari livelli per spiegartelo proprio su due piedi di quello che è il network marketing ci vorrebbe un approfondimento però carattere generale penso di essere stato chiaro ma quando un agente immobiliare sviluppa la propria rete ha una sorta di diciamo non dico obbligo però ha un impegno nel continuare a coltivarla ad avere relazioni o la rete poi diventa indipendente autonoma e si guarda l'interesse dei nostri agenti che noi chiamiamo sponsor coloro che hanno una squadra ovviamente è quello che la propria rete funzioni bene vada bene non ci sono problemi senza obblighi ma solo con la buona volontà di seguire colleghi che lavorano con noi poi se tu hai tutti i colleghi tutti abilitati tutti indipendenti che lavorano benissimo il tuo lavoro capisci che sarà meno complicato assolutamente un lavoro minore chiaro 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 bene grazie Maurizio della panoramica che c'è su IAD insomma uno strumento in più per l'agente immobiliare che può ampliare quelli che sono i propri orizzonti di guadagno e di marginalità e perché no diventare anche imprenditore un'occasione per il piccolo agente di diventare imprenditore togliendo gran parte del rischio in realtà questa è la realtà rischio zero costi bassissimi grazie Maurizio del tuo intervento prego grazie a voi grazie a voi